Spesso si diffondono profezie riguardanti Papa Francesco, spesso legate a teorie del complotto che coinvolgono il Pontefice e la Chiesa Cattolica in intrighi internazionali senza fondamento storico. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire chi ci ha lasciati, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Tuttavia, alcune persone credono a tali teorie e la Chiesa stessa sta monitorando da vicino gli eventi, come il presunto pianto di liquidi umani organici, di una statuetta della Vergine Maria a Trevignano, vicino a Roma. Le autorità ecclesiastiche hanno il compito di vigilare su questi eventi, spesso estranei alla fede. Fin dall'inizio del suo pontificato, Papa Francesco è stato oggetto di teorie fantasiose volte a turbare l'opinione pubblica, come quella che lo identifica come il presunto Papa Nero, l'ultimo a governare prima del declino della Chiesa. Durante il suo pontificato, si sono verificati eventi che hanno sconvolto i fedeli, come le indagini sui presunti abusi sessuali da parte di alcuni religiosi. Il Vaticano condanna fermamente tali episodi. Una famosa profezia attribuita a Nostradamus nel XVI secolo sembra inquietante alla luce di recenti eventi. All'inizio ci saranno malattie letali come avvertimento. Poi sorgeranno le piaghe e molti animali moriranno. Accadranno catastrofi e cambiamenti climatici e infine inizieranno le guerre e le invasioni del Re Nero. Alcuni interpretano queste parole come segno della fine dei tempi e quindi della fine del dominio della Chiesa sulla Terra. Cosa ne pensi di queste dichiarazioni? Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per farci sapere la tua opinione e ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina. Per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.